Musica E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui, vi faccio vedere che sono nella mia stanza a lavello E voglio provare a fare alcune modifiche per fare più spazio qui sulle console E praticamente voglio spostare questo scaffale qui Lo voglio fare più in qua e mettere questi scaffali uno sopra l'altro In modo tale da recuperare più spazio e da mettere più mobili qui per mettere le altre figure Ora andiamo a fare questo spostamento ragazzi e ci vediamo poi tra poco Ed ecco qua ragazzi che ho tolto le prime figure Il castello di Paperinic, il primo mobile Adesso vado a spostare quest'altro mobile più qua E gli altri due scaffali ragazzi li metto uno sopra l'altro In modo tale da recuperare un po' più di spazio Ed ecco qua ragazzi che sono andato a terminare la prima parte del nuovo spostamento Qui c'è il microfono che va a toccare il primo mobile Un pochino, non proprio da parecchio Ma non fa niente E questa ragazzi è la nuova disposizione Adesso vado a mettere il secondo scaffale bianco su quest'altro bianco E poi andrò a mettere tutte le figure che ho sul mobiletto Ed ecco qua ragazzi che sono andato a mettere anche l'altro scaffale bianco E adesso non ci resta per altro che andare a posizionare tutte le figure E il luogo di Pasqua di Ciccio Gamer 89 che ho qui Lo andiamo a mettere qui sul mobile Ed ecco qua ragazzi che ho terminato tutto il cambiamento Come potete vedere qui ho altri due spazi per mettere altri mobili qui sopra E magari un terzo da mettere anche qui sopra In modo tale da far aggiungere un altro Come potete vedere ecco qua il nuovo cambiamento E niente ragazzi mettetevi piace, commentate, iscrivetevi al canale E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti belli Ciao a tutti